11 minibus a basso impatto ambientale, 4 linee che collegano le zone interessate dalla ZTL e le vie del centro storico. Noi di Rottivitalia, in collaborazione con Kiss Kiss Napoli, li abbiamo testati per voi. Siamo già sulla linea E1 di questi favolosi minibus. Sentiremo un po' gli umori e i pareri delle persone sull'utilizzo di queste nuove linee dell'ANM. Signora, come si trova in questi nuovi minibus? Benissimo. Bellissimo. Noi anziani vanno ottimo. Oh, come sono belli! Escusate, ammettate. Le piace questo minibus? Bellino, bellino. Vado a vedere che percorso fa. Eh, dite. Che percorso fare? Non lo so, io adesso devo andare a via carbonara. E l'ho incontrato per caso. E salite a sperdermi. Ecco. Mi stanno rilassando. Come le sembrano questi minibus nuovi, freschi, freschi? Vabbè, comodi, comodi. Vanno ottimo. Questi minibus sono a basso impatto ambientale. Sono contenta di questa casa? Sì, molto. È a basso inquinamento, quindi ci vorrebbero un po' dappertutto. Io poi sono del vomero, quindi... Ma io vengo da Quart, sapete? Vorrebbe anche il minibus al vomero. Magari. Ci stanno, ma vengono troppo raramente. Dovrebbero farne di più. Allora andrebbe bene. E come le sembrano? Bellissimo. Stupendo. Anzi, ce ne vorrebbero tanti altri di questa tipologia. Perché sono bellissimi. Ottimi, piccoli, camminano e senza ladri. Innanzitutto senza ladri. Se ne fossero tanti sarei proprio felicissima di bucare il biglietto. Perché io non lo oblitero nell'R2. Perché non posso nemmeno. Pur volendo non posso. Perché è pieno di ladri. Stanno 30 ladri. 15 per ogni porta. 10 per ogni porta. Quindi queste minibus non sono soltanto a basso impatto ambientale. Ma, detta degli utenti, sono anche più sicuri. In generale signora, i trasporti come sono a Napoli? Bene. Per me sono bene. Perché io scendo poco. Ma io sono in casa. È la prima volta che le prende questo autobus? È la prima volta? Per forza. Ce la sto domandando, no? Siamo che domandati. Oh, madonna mia. E' tonnate di mese. È bellissimo. E allora questo va bene. Sì. Ma questo al ritorno si fa il rettifino. Quanto alle vede che fumo? Sì, ci va per il piaduomo. L'ho preso poc'anzi. L'ho poc'anzi preso. Sì, c'è un poc'anzi preso. Sì. C'è un poc'anzi preso. Sì. Grazie a tutti